Manca ormai poco all'appuntamento col grande tennis, ultimi ritocchi al programma per la ventesima edizione del Challenger Città di Caltanissetta, trofeo Averna, che si terrà dal 9 al 17 giugno nei campi su terra battuta rossa di Villa Medeo. Si tratta del torneo più importante in Italia dopo gli internazionali del Foro Italico che si sono conclusi domenica scorsa. 127.000 euro il monte premi del trofeo che vedrà i nastri di partenza, ben 4 top 100. Confermata la costruzione della tribuna mobile sul campo centrale per dare modo a quanti più appassionati possibile di assistere agli incontri e la diretta di Super Tennis per l'ultimo atto in programma domenica 17 giugno alle ore 18. Quest'anno il nostro torneo insieme a quello di Genova è il torneo più importante in Italia dopo gli internazionali in Roma e in quella settimana è il torneo più importante al mondo che si gioca in terra battuta, quindi un torneo sicuramente di altissima qualità, come è di grande qualità l'entry list che è uscita proprio martedì scorso e che vedrà 4 top 100 ai nastri di partenza del Challenger. Li ricordiamo sono Paolo Lorenzi il vincitore delle ultime due edizioni del torneo, Vaseli, abbiamo il giapponese Daniel Taro e Pueblo Quevas che è stato numero 19 delle classifiche mondiali. Però ci sono anche altri giocatori di grande talento come Klizan, Klizan è stato numero 21 al mondo, o anche Gulbis, Gulbis è stato numero 10 nelle classifiche mondiali qualche anno fa, è un giocatore di grandissimo talento e che sicuramente darà spettacolo qui a Caltanissetta. Avremo anche due giovani di grande talento che sono ai primi posti della classifica mondiale Under 20, Rud Cooper e Museli, sono due giovani molto interessanti che stanno scalando le classifiche mondiali, quindi sicuramente una settimana di grande tennis che darà veramente una grande visibilità a Caltanissetta e invito quindi tutti gli appassionati di tennis se non a scendere, a venire qua alla Villa Medeo ad assistere a questo bellissimo torneo.